Per completare la serie di canne con cui abbiamo pescato oggi vi presento il top di gamma delle beach leggeri telescopiche, la Virgon e la Viper. La Virgon è una canna di 5 metri nata prettamente per l'utilizzo agonistico con un casting di 30-100 grammi, mentre la Viper è una canna lunga 4 metri e 30 con un casting di 40-120. Sono due canne da beach puro da utilizzare con piombi leggeri e lente sottili. La Virgon nasce proprio per un impiego agonistico per l'utilizzo di lunghi travi leggerissimi alla ricerca delle nostre amate prede di galla che in gara ci piacciono tanto, proprio per ridurre al minimo la distanza che c'è tra il pesce e il pescatore. Praticamente è come se prolungassimo il nostro braccio. La Viper non è sicuramente da meno, con la sua leggerezza disarmante ci consente di pescare in assetto canna in mano per molto tempo senza avvertire la mente minima stanchezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti